Ciao, questo video è dedicato a tutte quelle donne castane che vogliono diventare bionde. Spesso da noi vengono donne castane che vogliono diventare bionde chiarissimo, senza riflessi caldi. Purtroppo però, su una donna castana, solo con una tinta, questo non è possibile farlo. Diverso è nel caso che una donna abbia un 80-90% di capelli bianchi, perché in quel caso, pur usando una semplice tinta, si può ottenere un biondo chiarissimo, senza riflessi caldi. Come fare per portare una donna castana ad un biondo chiarissimo freddo? Beh, la risposta è semplice, basta usare il decolorante al posto della tinta e la tecnica giusta in funzione del desiderio della cliente. Una volta fatta questa operazione con il decolorante, si arriverà ad una schiaritura che toglierà tutti quei riflessi caldi che normalmente vengono sui capelli castani e si potrà poi fare la giusta tonalizzazione sempre in funzione del desiderio della cliente. Qui si può passare da un biondo sabbia a un biondo lavanda, un biondo vaniglia, un biondo oro, tutti i riflessi possibili da fare su un capello biondo chiarissimo.